...inconcepibile che accanto a questa piazza, che oggi parla di lotta contro la precarietà, che oggi parla in nome di tutte quelle persone che si stanno mobilitando e stanno lottando contro la crisi e per un mondo di pace e accoglienza, li teniamo inaccettabile la presenza del banchetto della Lega di fianco a noi, li teniamo inaccettabile che quei razzisti e loro siano qua di fianco a noi, dovete andare via, noi rifiutiamo, rifiutiamo chi quotidianamente afferma discorsi razzisti, discorsi che parlano di respingimenti, dove muoiono migliaia di migranti in mare nel Mediterraneo, allora questi sono i responsabili, noi non accettiamo la loro presenza di fianco a noi, andate via, via la Lega della nostra città, via, via la Lega, via la Lega, alla prossima!